Silenzio in aula, entra la corte. Lef Nikolaievich Talstoi, Ressurrezione. Dopo le ultime parole degli accusati e l'accordo fra le diverse parti per trovare la forma delle domande da proporre ai giurati, il presidente incominciò il suo riassunto. Prima di entrare in materia, spiegò a lungo ai giurati, col suono piacevole di una conversazione familiare, che il brigantaggio è il brigantaggio, che il furto è il furto, che il furto in un sito chiuso a chiave non è altro che un furto in un sito chiuso a chiave. E spiegando questo, egli assai spesso e di preferenza guardava Nieliudov, come se desiderasse in modo speciale che gli capisse queste profonde verità, ed avendole ben capite, le spiegasse poi ai suoi compagni. Poi, quando credete che i giurati avessero ben approfondite queste verità importanti, il presidente incominciò a spiegare un'altra verità. Vale a dire che per omicidio si riteneva quel fatto che produce la morte di un individuo e che, perciò appunto, l'avvelenamento è un omicidio. Ed allorché questa verità fu, a suo credere, ben penetrata nell'intendimento dei giurati, egli spiegò loro ciò che fossero il furto e l'omicidio connessi insieme, vale a dire un furto seguito da un omicidio. Malgrado avesse fretta di finire per andare all'appuntamento datogli dalla governante svizzera, egli aveva talmente presa l'abitudine del mestiere che, una volta incominciato a parlare, non poteva più fermarsi. Così spiegò a lungo ai giurati che se gli accusati sembrassero loro colpevoli, avevano il diritto di dichiararli colpevoli, che se invece sembrassero loro innocenti, avevano il diritto di proclamarli innocenti, che se li riconoscessero colpevoli su di un capo di accusa ed innocenti su di un altro, avevano ugualmente il diritto di dichiararli colpevoli su quello ed innocenti su questo. Disse loro in seguito che possedevano questo diritto, ma che dovevano usarne ragionevolmente, e mentre stava per spiegare loro che una risposta affermativa fatta alle questioni poste si applicherebbe all'insieme della questione, e che casomai la volessero portare o su questa o quell'altra frazione della questione essi dovrebbero specificarlo, egli ebbe l'idea di consultare il suo orologio, e vide che erano già le tre meno cinque minuti. Allora entrò subito in materia. «I fatti di quest'affare sono i seguenti», cominciò egli, e ripetè tutto quello che era già stato detto dagli avvocati, dal sostituto e dai testimoni. Egli parlava, e i due giudici che stavano ai suoi latti l'ascoltavano con attenzione, guardando di sfuggita il loro orologio. Trovavano che il discorso era quale doveva essere, ottimo ma un po' troppo lungo. Il sostituto era del loro parere, come pure il personale del tribunale e la sala tutta. Avendo il presidente terminato il suo riassunto, pareva che tutto fosse detto, ma egli non poteva decidersi a tralasciare di parlare, compiaciuto di udire le carezzevoli intonazioni della propria voce. E tanto ne era infatuato che stimò opportuno di tornare a ripetere ai giurati l'importanza del diritto che la legge conferiva loro, con quanta saggezza e circospezione dovessero usare di questo diritto. Usare e non abusare, e come fossero vincolati dal loro giuramento. Disse loro che essi rappresentavano la coscienza della società e che il segreto delle loro deliberazioni era sacro, eccetera, eccetera. Ravele racconta che un giure consulto, chiamato a decidere di un processo, dopo aver numerato una infinità di articoli di legge ed aver letto 20 pagine di guazzabuglio latino giuridico, propose ai litiganti di tirare a sorte il giudizio. Se i dadi segnavano un numero pari, l'accusatore avrebbe avuto ragione. Se impari, l'accusato avrebbe vinto. Qui accadde la stessa cosa. Questa era la decisione, e non un'altra, non perché tutti i giurati fossero dello stesso parere, ma perché il presidente aveva talmente prolungato il suo riassunto che egli aveva omesso di dire, seguendo l'uso in simili casi, che i giurati potevano rispondere, sì, ma senza intenzione di procurare la morte. Le risposte, poi, furono adottate perché il colonnello si era troppo dilungato a raccontare l'avventura della moglie e di suo cognato. In secondo luogo, perché Neiliutov era talmente commosso che dimenticò perfino le parole, senza intenzione di rubare, che avrebbero dovuto essere accompagnate da queste altre, senza intenzione di dare la morte. In terzo luogo, perché Piotr Gerasimovic era uscito dalla sala mentre che il capo dei giurati rileggeva le risposte. In complesso, poi, quelle risposte erano state adottate perché i giurati, stanchi e desiderosi di recuperare la libertà, avevano preso al volo il primo parere che era stato proposto loro. Ne risultava che, secondo i giurati, Katiuscia Maslova non aveva né rubato né spogliato alcuno, ma che intanto aveva avvelenato un uomo senza nessuno scopo al mondo. «Guardate un po' che bestialità ci hanno portato», disse il presidente, al giudice seduto alla sua sinistra. «Si tratta dei lavori forzati ed essa è innocente». «E perché sarebbe innocente?» domandò il giudice Burbero. «Sicuro, è innocente. Secondo me sarebbe il caso di applicare l'articolo 817». L'articolo 817 dice che nel caso che il tribunale trovi malfondate le conclusioni dei giurati, può annullarle. «Che ne dite?» continuò il presidente, rivolgendosi al giudice Bonario. Costui non rispose subito. Guardò il numero della carta che stava davanti a lui. Addizionò le cifre e vide che il totale non era divisibile per tre. Si era proposto di acconsentire se era divisibile e di rifiutare nel caso contrario. Ma pur tuttavia, per bontà, si mostrò favorevole alla proposta del presidente. «Sono pure di parere che bisognerebbe annullare questa decisione». «E voi?» domandò il presidente all'altro collega. «In nessun caso», rispose quelli energicamente. «Gia tutti i giornali dicono che i giurati assolvono tutti i delinquenti e che diranno ora, se anche il tribunale si mette ad assolverli, mi ci oppongo assolutamente». Il presidente consultò l'orologio. «Peccato, ma non c'è che fare», e rese il foglio al capo dei giurati affinché lo leggesse per la condanna.